Voglio essere un questore tra la gente. Si presenta così il nuovo capo della polizia aquilana, il questore Gennaro Capoluongo, campano, che forte della sua grande esperienza in campo internazionale, vuole fare dell'Aquila un laboratorio di innovazione nelle politiche di sicurezza. Così ha detto alla stampa nel primo incontro ufficiale. Il questore ha detto che trova l'Aquila in forma e pur non conoscendola prima, camminando a piedi dalla prefettura alla questura, ha potuto notare una città vitale che sta smaltendo gli effetti del sisma e degli anni successivi. In relazione alla situazione dell'Abruzzo, il questore ha pure precisato che è un territorio che non ha una criminalità autottona, ma l'attenzione non deve essere mai abbassata proprio per questo e per preservare il territorio. Un popolo serio e concreto, poi, così ha definito gli abruzzesi, non farò proclami, ha ribadito. Il nuovo questore, nato a Fratta Maggiore, è laureato in giurisprudenza e, a partire dal 2001, ha ricoperto diversi incarichi internazionali, assumendo successivamente la direzione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale. È esperto di crimine trasnazionale e membro del Comitato Europeo Interpol. Non ritengo ci siano grandissime problematiche. Evidentemente i miei predecessori hanno lavorato molto bene. Purtuttavia, voglio dire, con i colleghi con cui oggi mi sono visto, faremo un punto della situazione per capire dove possiamo meglio interagire anche con le altre forze di polizia e per fare un quadro d'insieme che possa essere il più esaltivo possibile affinché i nostri cittadini possano avere quel bene fondamentale che è la sicurezza. Voglio essere invece un questore che vuole stare per strada, compatibilmente ovviamente con gli impegni che ci sono, e sentire le esigenze della gente e perché no, cercare di esaudire e dare uno sviluppo a quelle esigenze che vengono rappresentate. Trovo una questura in forma, se possiamo utilizzare un termine sportivo. Purtuttavia, la mia esperienza internazionale, la mia pregressa esperienza internazionale che mi ha portato al confronto con decine, se non centinaia di corpi di polizia, mi induce a sperimentare formule innovative anche nel contesto della sicurezza e in una polizia di prevenzione che sempre più deve garantire i cittadini.